Nel fuoco della menzogna E tu credi che mi nutra Del vittimismo di una mezzadonna Evento rap questa sera alle 21 a Live Coffee in via Pallatucci a Battipaglia Sul palco ci sarà il rapper Malacarne per una tappa del suo Snowfall Tour Nato a Sassuolo nel 1981 Malacarne si è avvicinato al mondo hip hop nel 2000 Nel 2002 ha formato la sua prima crew di nome Codice 187 con cui ha registrato il primo demo Braida Faida Poi dopo varie apparizioni dal vivo nella sua regione ha deciso di puntare più in alto ma vari problemi con la giustizia lo hanno tenuto fermo per due anni Dopo aver pagato il suo debito ha deciso di continuare il viaggio musicale da solo e si è trasferito a Milano, a Rozzano dove ha prodotto il primo vero album ufficiale Nel progetto compaiono come collaborazioni Ghe Pechegno Vincenzo, Jack Smoker e Chila Asco Nel frattempo Malacarne ha fatto varie apparizioni in giro per l'Italia aprendo artisti del calibro di Club Dogo, Cardakan e Bassi Maestro Dove tua madre non vuole che corri fra perché la merda ti arriva ai ginocchi dal posto da cui sono